Questa carrellata di facce da vacanze, chi parte, chi resta, chi vorrebbe ma non può, chi sceglie sempre lo stesso posto, chi invece preferisce il mare. Gusti, passioni, differenze, a volte anche budget risicati. Chiedo a lei che poi i comandi e i turisti li manda in vacanza. Sì, è vero, allora il budget è l'elemento fondamentale. Diciamo che, facciamo un passo indietro, dove si va d'estate, il desiderio, poi tradire il fare. Però il desiderio delle persone, ovviamente scegliendo il periodo estivo, il mediterraneo, anche come consiglio agente di viaggio, è forse la location migliore per cui può esserci la Grecia, che quest'anno, almeno per quanto riguarda la mia parte, la Grecia è molto, molto richiesta. Parentesi, la crisi greca ha abbassato i prezzi? Io ho riscontrato che rispetto alla Spagna, che è solito più o meno, qualcosina meno c'è. È vero che è cambiato un attimino anche, è scesa, è cambiato un pochino anche il modo di viaggiare. Cioè, la maggior parte degli anni chiedevano il villaggio, l'animazione o l'inclusi, bla bla bla. Quest'anno ci si adatta alla pensione, bed and breakfast, per annottamento e prima colazione, motorino e quindi un attimino il costo ovviamente diminuisce. Rimane sempre comunque la famiglia che richiede invece il villaggio, però abbia ragione anche per comodità per i bambini e tutto quanto. Poi c'è sempre la Spagna e comunque l'Italia. Diciamo che queste sono le mete più o meno richieste. Poi è chiaro, ci sono comunque persone che hanno la possibilità anche di fare i famosi Stati Uniti, per cui si spostano un attimino di più, però tendenzialmente il Mediterraneo è quello un pochino più gettonato. Ci sono mete emergenti, novità, diciamo? L'anno scorso sì, quest'anno sono diventati furbi, nel senso che l'anno scorso avevamo il Salento che ci ha veramente aiutato tantissimo. E' bellissimo. E quest'anno invece è salito tantissimo. Come prezzi. Come prezzi. Quindi diciamo che l'anno scorso le persone che sapevano che costava molto poco, comunque diciamo già un pochino avevano l'alternativa, quest'anno effettivamente il Salento è salito tanto. Diciamo che paragoniamo un pochino al discorso della Sardegna. Vacanze in appartamento per cercare un attimino di limitare il budget, ma comunque quando il cliente ti entra in agenzia il discorso è inverso. Non ti dice dove vuole andare, ma ti dice io ho questo da spendere, dimmi tu cosa posso fare. Quindi il nostro lavoro è un attimino questo esatto, di ricercare un po' le soluzioni. Ahimè poi le situazioni che ci sono, che stanno succedendo, ci limitano. Vedi Turchia, vedi Tunisia, vedi Egitto, quindi abbiamo un bel lavoro diciamo. Soprattutto le situazioni geopolitiche su mete, diciamo massa. Su quelle destinazioni che, prendiamo il Mar Rosso della situazione, ha veramente qualità prezzo e poi purtroppo la situazione politica e i problemi che ci sono spaventano. E quindi questa parte ti viene eliminata, ti viene eliminata la Tunisia, insomma ti vengono eliminate quelle destinazioni che comunque hanno un budget che può essere gestito per la famiglia che ha un budget limitato. Che può permettersi magari una buona vacanza con un prezzo un attimino più accessibile. Quindi anche tutto ciò che succede purtroppo nel mondo crea un pochino di limitazioni. Le chiedo, abbiamo parlato di mare, città invece, città, centro Europa, sono mete che si scelgono magari in periodi diversi dell'anno? Sì, diciamo che anche le città stanno prendendo abbastanza piede. È chiaro che se appunto la famiglia classica faceva una settimana si dedicava al mare proprio anche per riposare. Quando i giorni diventano un attimino più ridotti allora si va sulle città europee, Parigi, Praga, le classiche, anche perché qui ci viene un attimino in aiuto il fatto che ci siano dei voli low cost, infatti poi mi riallaccio un attimino al problema italiano, dell'Italia. Ci sono dei voli comunque low cost che veramente con poco, prenotandoli in largo anticipo, ti danno la possibilità di poter fare una buona vacanza. In discorso Italia, voli Milano, Sicilia, Milano, Calabria per esempio hanno dei prezzi veramente altissimi. O vengono prenotati mesi prima. Mesi, 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 ma proprio tanti mesi prima. La Calabria per esempio o lo prenoti a gennaio o veramente paghi delle tariffe pazzesche. Quindi anche qui cosa succede? Paragoni un volo Milano-Lamezia con un volo Milano-Parigi, costa meno andare a Parigi. Cioè il problema è sempre qui. Ritorniamo sempre sul discorso che l'Italia dovrebbe un attimino ragionare, ma come diceva infatti il signore, non ricordo il nome? Leone. Leone, il problema alla base è il fatto di essere tassati, di essere insomma alla base, è sempre lì il problema. C'è per la scarsa competitività dovuta... Certo, perché comunque penso che nel settore alberghiero tutti abbiamo voglia di poter lavorare, di potersi guadagnare, di poter dare anche delle ottime proposte. Però poi ahimè abbiamo anche dall'altra parte che dobbiamo appunto rendere, quindi i prezzi li evitano parecchio. Ecco, è proprio la continua attenzione al prezzo sacrosante, legittima e ahimè imposta anche dalle condizioni. Porta, molti turisti a evitare l'agenzia viaggi. Dico chi lo fa ha ragione, chi lo fa magari in modo un po' più avventato. Non voglio né demonizzare né invece sponsorizzare diciamo l'online sulla vacanza, però di fatto le fregature spesso siano inolite. Assolutamente, ma infatti... Io le dico, poco fa proprio la Polizia di Stato ci ha inviato qualche giorno fa una sorta di decalogo per difendersi dalle truffe, dalle bufale online. Le leggo qualche passaggio, poi chiedo a lei di integrare, di dare qualche consiglio ai nostri telespettatori. Difidare innanzitutto dei prezzi troppo convenienti perché nessuno regala nulla. Poi difidare da chi ha troppa paura, premura di concludere, vuole chiudere in fretta, o da chi è propenso a dare sconti forti. Anche qua nessuno regala nulla. Poi difidare da chi si presenta come un privato, ma ha tante case da affittare, anche questo deve far saltare la mosca al naso. Difidare da chi non dispone di fotografie degli interni, delle abitazioni, perché a volte fotografano case di cui non si dispone e poi le si mettono in vendita per il periodo estivo. Ancora verificare i contatti dell'annuncio con una ricerca internet, magari associare una mail, un IBAN alla parola truffa, banalmente il motore di ricerca, vedere se salta fuori qualcosa. Poi verificare se la fotografia della stessa abitazione non risulti in altri annunci e verificare se fingendosi interessati in due persone differenti alla stessa abitazione per lo stesso periodo venga confermata la disponibilità. Quindi fare quello che in gergo viene definito un saltafosso. Ecco, questo è ciò che raccomanda la Polizia di Stato. Come intuire la fregatura? No, il mio consiglio è assolutamente l'agenzia di viaggio, perché il problema è che il cliente... Sono di parte, ma il problema è proprio questo, cioè il cliente pensa non vado in agenzia perché risparmio, è qui l'errore, perché noi siamo agenti di viaggio e io ci tengo davvero a evidenziare la parola agenti di viaggio, perché ci sono agenzie dove non ci sono agenti di viaggio, ma io devo vendere. No, noi abbiamo il ruolo di dover innanzitutto istruire il cliente, aiutare il cliente nella scelta, riuscire a trovargli la soluzione qualità-prezzo, attenzione, qualità-prezzo non prezzo, ma qualità-prezzo, e dargli delle garanzie. Il cliente invece pensa salto agenzia, risparmio. No, non è così, perché purtroppo davvero ormai, io poi sono un po' vecchio stampo, cioè internet sinceramente mi piace, ma non mi fido. È diffidente. Non mi fido, lo devi usare perché comunque questo è il futuro, però sinceramente preferisco parlare, colloquiare, esporre i miei problemi. Anche lei diceva tutto bene finché va tutto bene. Certo, certo, io dico, compro questo, metto la carta, poi boh, trovo, non trovo. Io non mi fido, onestamente io non mi fido, ma io personalmente, ad eccezione dei famosi voli comunque, che tutti comunque conosciamo, che sono compagnie comunque serie, abbiamo testato i prodotti, io del resto onestamente... Le posso chiedere un episodio di una truffa un po' clamorosa, o magari che ha sentito di qualche bidone spaziale? Ma io so di una cliente che aveva prenotato dei voli, non si possono fare i nomi, vero? Assolutamente. Non va bene, comunque dei voli, in un motore di ricerca abbastanza famoso, non nella singola compagnia, in un motore di ricerca che tutti usano. Uno dei tanti, diciamo. Uno dei tanti. Praticamente aveva transato la carta e erroneamente l'operatore aveva preso doppiamente la carta. Era venuta da me a chiedermi di risolvergli il problema, ovviamente noi non... Quindi aveva parlato due volte lo stesso... Due volte lo stesso biglietto. Non riusciva a parlare con nessuno, perché comunque c'era un disco che continuava a rimandarla, a rimandarla, ora io non so poi come sia finita, so solo che comunque alla fine ha comprato il biglietto in agenzia, perché non gli era arrivato neanche il biglietto, tra le altre cose. C'era stato questo problema... Quindi tre volte alla fine. Sì, sì, due volte pagato, ma quindi ha comprato il terzo biglietto e ha detto non mi fiderò mai più. Il problema è questo, cioè con chi parli, chi ti risolve il problema. Chiaro, va tutto bene, se tu chiami poi stai magari anche minuti minuti a pagamento. Quindi quattro volte si paga il biglietto. No, l'agenzia di viaggio deve essere questo, deve essere questo, non deve essere... ti bypass così risparmio, no. Ti ho fregato. Ti ho fregato, no, perché poi... Cioè noi siamo lì per quello, noi siamo lì per dare... istruire innanzitutto il turista a viaggiare, a saper viaggiare e poi soprattutto aiutarlo a realizzare i sogni. Io mi ritengo tale, io vorrei realizzare i sogni di chi desidera fare un viaggio che magari se lo può permettere o magari no. O quantomeno rilassarsi un po'. Esattamente. Sacro santo con l'estate che stai vicino. Poi andiamo a casa noi stressati, eh. Però questo è il nostro lavoro e dovrebbe essere così. La ringrazio. Mancano pochi secondi alla fine. Io voglio concludere con qualche ringraziamento perché questa è l'ultima puntata della stagione 2014-2015 di Nessun Dorma. La prima stagione di Nessun Dorma. Un viaggio lungo, interessante, appassionante che ho fatto grazie a tante persone. E vado subito a ringraziarle. Me le sono scritte perché non voglio dimenticare nessuno. dal direttore dell'informazione Mario Rapisarda poi alle colleghe in redazione Michela Vitale e Alessandra D'Angio e tutto il comparto tecnico Mauro Maggi come coordinamento tecnico Alessandro Copertino in regia che sta manovrando gli schermi delle telecamere poi ancora Andrea Signorelli al mixer audio Massimiliano Moretti all'emissione e ancora dietro le telecamere mi stanno inquadrando in questo momento, li saluto tutti Roberto Crippa, Giuseppe Andreotti e Luca De Negri e ancora Carlo Nicolella, direttore dei programmi Sara Bianchi per la segreteria di produzione chiedo un applauso a tutto lo staff che ci ha permesso di fare questa stagione di Nessun Dorma e chiedo adesso un applauso ai nostri ospiti in studio e grazie ovviamente a tutti voi da casa che ci avete seguito in queste puntate buona continuazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti